Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un libro per bambini e bambine a partire dagli anni 6, che segue una serie di avventure affascinanti ed invia un importante messaggio di inclusione, diversità e perseveranza. La trama del libro Ciao, io sono Cico, dello scrittore Francesco Taverna, pubblicato dalla casa editrice Fabri, è la seguente. Ciao, io sono Cico e questo è il mio primo libro. Mi sono fatta aiutare dal mio papà perché non ho le mani. Volevo chiedere alla mamma, che è bravissima, ma lei era impegnata e allora ho chiesto al papà che è bravino e alla fine quel fricchettone se l'è cavata. È un libro bellissimo, ci sono tante avventure che non vi ho mai raccontato e anche un sacco di disegni. Quando sono andato nel bosco e sono diventato il leone gaggiangi, quando ho festeggiato il mio compleanno, quando sono andata a Londra e tantissime altre storie. Volevo metterci anche una bistecchina omaggio, ma la mamma ha detto che in libreria non si può fare. Buona lettura! Grazie per l'attenzione e buona lettura! Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale. Un caro saluto!